Ciao a tutti ragazzi, sono Andy Rozz e bentornati sul canale. Oggi ragazzi, come potete vedere qua sullo sfondo, un'altra bella pila di fumetti. Quindi è giunto il momento di presentarvi il video, ovviamente, sugli acquisti fumettosi del mese di maggio. Tanto recupero, ma tante robe che non ho preso, che ovviamente porterò il mese prossimo. E ovviamente ragazzi, tantissimi contenuti sul canale, che se non siete iscritti, vi consiglio di seguirmi e cliccare qua in basso a destra. Oppure potete anche seguirmi sui miei social, gruppo Telegram, oppure seguirmi proprio su Instagram. Dove magari avete anche possibilità di parlare direttamente con me, quindi se vi va per chiedere consigli, per consigliarmi cose. Quindi non esitate a scrivermi e anche a commentare ovviamente sotto nei commenti, che io leggo sempre tutti. Anche perché non è che ho moltissimi iscritti, quindi vi leggo ora ragazzi sigla e poi vediamo di andare a smerciare quella che è questa gigantesca pila di fumetti. Eccoci di ritorno ragazzi, abbiamo qua una super pila di fumetti e andiamo a smerciare ovviamente. Ragazzi parto un pochettino da quelli che sono un po' l'ordine di uscita e direi di andare subito a smarcare i fumetti della Marvel, che ovviamente ho preso un recupero e vi spiego anche qual è. Questo è il volume della Marvel Collection in cartonato di Iron Man Tony Stark, anzi Tony Stark Iron Man, che è la run di Dan Slott, che è scrittore appunto di Amazing Spider-Man. E praticamente è una run un po' vecchia ovviamente, cioè vecchia tra virgolette, dove c'è ritorno di alcuni elementi appunto come Giocasta, Wasp. Poi c'è la presenza di Arnold Stark, appunto il fratello di Iron Man, che è stato presentato dopo la Mega Run di Bendis. Questa è quella successiva, devo dirvi la verità, non è stata apprezzatissima, però queste sono tutte le collezioni che raccolgono gli spillati. Quindi se non volete avere gli spillati, io tipo ad esempio prendo magari il numero 1 in versione alternativa, dopo recupero quei che sono i cartonati. Voglio dare praticamente, comunque non avevo letto a questa run, voglio comunque dargli fiducia alla fin fine, quindi recupero che dovevo fare. Ovviamente poi dopo vi farò vedere in un video successivo la mia collezione di fumetti di Iron Man. Passiamo avanti, quindi facciamo una fila lì. Adesso si sdogana panini della Disney, ci sono alcuni recuperi, qualcosa che poi vedrete anche sul canale, in dedicato. Partiamo col recupero di questo paperino del luglio 2021, 493, l'ho preso ovviamente per la prezzo dei personaggi gold, perché c'era paperino gold, niente di trascendentale, ma va bene ovviamente per la collezione. Andiamo a presentarvi il volumetto di francese, questo è della Disney Collection, il numero 9, Paperone al lago di Glasgow, scritto da Chamblaine con i disegni di Fabrizio Petrossi, l'italiano. Su questo ci farò un video sul canale perché ne voglio parlare in dettaglio. Cartonato, ovviamente un po' più grande del grande Splash, quindi il formato in realtà che ci sta, ovviamente tipo vi faccio vedere qualche tavola, ma lo vedremo in dettaglio. Molto particolare sono le storie internazionali, questi raccolgono il volume, i cartoni delle storie internazionali di Disney. Soprattutto bello perché parla del paperone giovane pre-Saga Don Rosa. Non vi dico altro, seguite poi il video quando sarà online per avere più dettagli. Andiamo avanti ancora e abbiamo quello che è un nuovo recupero da questo punto di vista, che è Paperino e le lenticchie di Babilonia, altro recupero di cartonati, anche questo 28 dovrebbe essere d'altezza, con la storia incredibile di Paperino. Anche su questo ci farò, scusate, Paperino e le lenticchie di Babilonia. Una delle storie più belle, fatta romano a scarpa, questa copertina è fatta da Casti. Quindi tanta roba, ma poi ne parlerò anche su questo in un video speciale, chiaramente, perché queste erano le due storie che volevo raccontarvi, anche perché, ragazzi, se avete seguito le mie recensioni del Topolino, su questa ne siamo che è stata scritta molto recentemente il destino di Paperone, che si basa un pochettino quella che è la situazione. E niente, passiamo, sdoganato da Disney, passiamo ai numerosi manga che ho preso. Numerosi, vabbè, ragazzi, poi è tutto sempre relativo. Allora, partiamo con il mio recupero, che è... Partiamo con il recupero, andiamo in ordine, appunto Demon Slayer numero 10. L'avevo letto, poi mi sono fermato un po' con Demon Slayer per passare all'altro, però è una storia che voglio concludere, anche perché adesso è concluso effettivamente. Mi mancava, ho ripreso da qua con molta calma. Poi abbiamo... Vi presento, ovviamente, già di recuperi. In realtà siamo già a termine, nel senso, sulle serie che già seguivo. Adesso ci sono tutte cose nuove. Allora, partiamo ovviamente con questo. Questo, ragazzi, è ancora sigillato, ma adesso io lo apro per voi, perché è il bundle di Detective Conan e One Piece C-104. Allora, ragazzi, io non leggo Detective Conan, nel senso... O meglio, lo leggevo in passato, poi l'ho un po' accantonato, ovviamente, perché comunque Detective Conan è un manga che non avrà, secondo me, fine, perché per i giapponesi loro si divertono con queste storie. Per noi italiani che cerchiamo un finale, i finali dei giapponesi ci possono un pochettino lasciare un po' perplesso su questa cosa qua. Comunque, il bundle l'ho preso più che altro perché c'era ovviamente il nostro One Piece C-104, come vedete, Rufi in modalità sblocco appunto del frutto, e poi appunto il Detective Conan C-102. Quindi più che altro li ho presi, in realtà, per questo, che è il volumetto di intervista di Gosho Yama e Ichiro Oda, che sono i due mangaka che appunto hanno raggiunto, cioè l'intervista tra i due su grande successo appunto dei manga che sono arrivati da quel punto di vista forti. Passiamo alle cose nuove, Marmalade Boy numero 2, di Wataro Yoshizui nella nostra Ultimate Deluxe Collection. è una storia ovviamente che vi consiglio di leggere anche solo per farvi una cultura dei manga shoujo, che comunque prosegue a 6 volumi, che per cui secondo me vale anche la pena. Altro, tra le virgolette, recupero Master Kito e Remaster di Urasawa, è il successivo appunto capitolo rispetto a Master Kito, un'opera che secondo me è molto interessante, ovviamente questo lo devo ancora leggere, per cui, però ragazzi, le cose di Urasawa sono veramente belle. Poi questa versione qua molto bella, in rilievo anche la cartina, anche perché da questo punto di vista, Kito è un personaggio, secondo me, anche discretamente riuscito, anche se, ragazzi, devo essere sincero, di Urasawa Monster e 20th Century Boys sono sicuramente inarrivabili, però va bene così. Passiamo poi, ragazzi, a questo trittico preso, questo è proprio un recupero, ma in realtà perché non l'avevo mai letto, Moriarty dei Patriot, questa qua era la Discovery, quindi c'era anche Variant a 1 euro che potete prendere, non l'avevo letto, è basato ovviamente sui racconti di Arthur Conan Doyle, e peraltro farò un video a riguardo, perché voglio portare anche volumi, romanzi, eccetera, e chiaramente abbiamo la storia di Ryosuke Takeuchi, che va a vedere il punto di vista del cattivo, quindi di nostro William James Moriarty, e tutte le avventure, e poi ovviamente mi è piaciuto talmente tanto che intanto ho preso già il numero 2, numero 3, dove c'è la presentazione anche di Sherlock Holmes, ed è bello, secondo me, vedere quello che è il punto di vista del cattivo, mi piace quando i mangaka poi si inseriscono su storie che vanno a costruire, io le apprezzo queste cose qua, anche se tipo può non essere canonico ovviamente per l'autore, però sono cose che a me non dispiacciono da questo punto di vista. Poi abbiamo di, e qua ragazzi cominciamo ad arrivare con dei punti importanti, MW, Osamu, Tezuka, finito, incredibile, secondo volume, storia che a me è piaciuta tantissimo, è un po' pesante ovviamente, perché comunque sono quelle storie un po' impegnate, dove c'è l'influenza della Gekiga anche su Tezuka, finisce la storia, ovviamente finisce chiaramente non come ci si aspettava, dal punto di vista occidentale, ma in tipico stile giapponese, però ragazzi di Tezuka, questo è uno delle sue opere che vi consiglio, è una lettura un po' impegnata, chiaramente MW, è proprio una storia che va in epoca guerra fredda, tra virgolette, ma soprattutto dell'influenza degli Stati Uniti sul Giappone, ovviamente post guerra mondiale, eccetera, quindi ve lo consiglio in maniera assoluta, c'è comunque anche la critica alla società giapponese, e ve lo consiglio, è una delle opere, magari un giorno farò un video su Tezuka, quando ho tutto il materiale che voglio io. Abbiamo ragazzi, nuovo, la versione variant di Tutsomo Takashi, di Guitar Shop, non ancora aperta, con dentro il plettro, però ragazzi, Takashi è un autore che è interessante, vi lascio il video di Jumbo Max, ma soprattutto Noin, ovviamente sono opere che mi sta piacendo molto, sono curioso di vedere questo, anche per avere un manga che parlava di musica, eccetera. Ragazzi, questa è la Black Edition numero uno, questa la presenterò appunto come, nel video delle migliori edizioni, di Death Note, presa perché ragazzi è in nero, poi l'opera di Oba e Obata, mi è piaciuta, ovviamente si parla del classico Death Note, belle stampe, belle giganti, ovviamente un prezzo un po' alto, 18, però ragazzi guardate qua, che bellezza, nero, argentato, ci sta bene. E l'ultima cosa che vi presento, e poi ho terminato, per questo mese, è un regalo di un fan, che ringrazio ovviamente Topolino 580, che mi ha mandato, mi ha scritto in privato, mi ha detto, guarda ti voglio regalare, visto che sei anche fan, lui mi segue ovviamente per dopo, io mi ha fatto, ti voglio regalare questa cosa che mi hanno dato, che è appunto lo Shonen Jump, tra l'altro era lo Shonen Jump, il numero 49, guardate che mattone, dove c'era la presentazione del film One Piece Red, quindi perché sapevo che entrare a passare per One Piece, qui lo ti ringrazio un sacco, ovviamente so che non mi commenti nei video, perché mi hai spiegato, perché preferisci guardare, quindi comunque ti ho chiesto, se ti potrei ringraziare, ma hai detto di sì, quindi io ti ringrazio, vente pubblicamente, se anche voi ragazzi, mi volete mandare qualcosa, scrivetemi, che poi dopo ci mettiamo la colla, a questo punto di vista, direi che per questo video, finalmente è tutto, e noi ci vediamo, ad un prossimo video, ciao! Ciao!